video 4 gt 5 online qui al vostro galo gaming a fare che qui qui che vi parla siamo qui a fare un deathmatch con un nostro amico sto facendo un deathmatch moddato siamo qui con un mio amico youtuber anche lui youtuber che lascerò il link in descrizione vogliamo fare sta partita solamente per vedere chi era il più forte quindi saprete come si chiamerà lo lascerò in descrizione come voi o doppia uccisione contemporanea grandissimo dai 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 dove sei dove sei stiamo dentro alla metropolitana di lo santo su una delle stazioni principali vicino alla casa di michael o grandissimo uccisione mai fatta prima visto che abbiamo raggiunto parecchi mi piace nei video in cui avevo detto la prossima avrei fatto un deathmatch in cui avrei fatto in tutta una persona abbiamo raggiunto quel risultato adesso la faremo in più ah mannaggia mannaggia vabbè adesso ce li facciamo ok se raggiungiamo al massimo se sei like per questo video ci sarà ai 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 maledetto perché mi ho scommesso che in quel giorno avrei avrei fatto come si chiama il deathmatch in prima persona mannaggia vabbè raga faccio vabbè in prima persona diciamo che viene un po' la schifezza sono abbandonato sempre con la terza persona so che in questi giorni non l'avrò messo non ho messo ieri non ho messo video ma solamente per un motivo perché ero impegnato un attimo con la scuola quindi oh mio dio raga mi stabba so che ne ho vabbè ok dove sei dove sei dove sei dove sei dove sei dove sei ma co dannazione dannazione stiamo si sta battendo le sette due e e tra sette minuti finisce anche a boom muori bastardo adesso ci ripigliamo noi gloria dai 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 boom ecco dai raga dai lasciate al massimo 6 like per un nuovo episodio qua su gt5 online per queste nuove modalità anche deathmatch poi se volete partecipare anche voi ai deathmatch basta che mi mandate la richiesta amicizia ormai sappiate dove dannazione da oltre che a giocare a call of duty che anche la sono abbastanza bravo ma anche qui devo prenderci un po' la mano dai 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 so che non parlano perché sono un po' concentrato boom ok torniamo alla posta indietro perché ecco la dove sono mappa che perché can ok e muoviti non non ti fermare mica stai ingrumpando dannazione dai raga 5 minuti devo farcela recuperare boom ce l'ho fatta dai 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 corri 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 il cowboy di los santos non si arrende mai dannazione dannazione oh mio dio raga dobbiamo recuperare raga boom mio dio che kill raga oh raga se raggiungiamo al massimo se raggiungiamo se superiamo i 5 like mi farò uccidere non so quante volte mi farò uccidere 10 volte da un mio amico se raggiungiamo i 5 like da da boom poi sono molto contento che avete come si chiama lascio il apparecchio i pollicioni in su dai vecchi video precedenti sono molto contento dannazione poi raga forse con questo amico youtuber vince che poi vi lascerò il link in descrizione forse faremo una specie di crew insieme in una specie di compagnia una collaborazione tra youtuber così a me dove sei dove sei dove sei dove sei boom grandissimo dai raga spagnare là dietro dai 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 sono troppo figo sono troppo bello sparare dannazione 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 boom dai 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 non mi faccio un po' dannazione dannazione oh mio dio oh mio dio perché non spara ho premuto l r2 cavolo dai 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 dove sei dove sei Eccola Dai se avevo le bombe adesive le ho già avrei fatto saltare in aria Oh niente Grandissimo Oh non mi ha segnato il punto questo Dai raga 56 Dai 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 Non voglio perdere non voglio Sì sì 15 a 15 è un pareggio raga Abbiamo 30 secondi circa per recuperare Per fare l'ultima kill Dai dai raga Oh mio dio raga Scontro fra youtuber mai vista in una cosa del genere No 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 dai no Cazzo Due secondi Mio dio raga C'era almeno c'era Ci abbiamo messo tutto quanto la nostra audacia a sparare Per far sparare Oh mio dio raga Beh almeno abbiamo guadagnato qualcosa Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale E lasciate tanti commenti Raggiungiamo al massimo 6 like Se arriviamo a 5 like Giuro che mi faccio sparare Da tutti i miei amici E non lascerò nemmeno nessun Non sparerò agli altri Iscrivetevi al mio canale Lasciate tanti pollicioni in su Lasciate qualche commento E iscrivetevi anche al canale del mio amico E ci si vede A un prossimo video A un prossimo video